Dopo la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Carlo Chiuri, firmata da nove consiglieri, e le successive dimissioni dello stesso primo cittadino e della sua giunta, Palazzo Gallone ha registrato anche le dimissioni irrevocabili dei consiglieri rimasti finora nel gruppo di maggioranza. Antonio Luigi Baglivo, Vincenzo Emanuele Chiuri, Pasquale De Marco, Alessandra Ferrari, Luigi Giannini, Francesca Longo e Maurizio Roberto accusano il presidente del Consiglio, Dario Martina, di non aver svolto il ruolo di garante della legittimità dell'attività consigliare e di non aver approfondito la problematica dell'eventuale incompatibilità del consigliere Fernando Dell'Abbate presso gli organi competenti. Secondo gli ex consiglieri di maggioranza, quindi, alla luce della normativa, sussisterebbero i presupposti per l'incompatibilità del consigliere e per una serie di motivi spiegati nella lettera di dimissioni, la questione si deve considerare ancora aperta.